Summer School Movimenti è un progetto a livello nazionale volto a contrastare la povertà educativa minorile. Hanno aderito cinque regioni, tra cui la Liguria, dove referente per la sua attuazione è il Consorzio Tassano Territoriale. Il tempo presente ha ampliato ulteriormente gli obiettivi del progetto, con uno sguardo rivolto non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie. All'interno di questa attività abbiamo attivato per quest'estate, proprio per cogliere un po' la sfida, l'opportunità di questo tempo post-lockdown, di ripartire aiutando le famiglie e i bambini, dando spazi di creatività, di sport, insomma di attività che possano stimolare un po' i bambini. Il primo passo è stato attivare delle Summer School a Sessere Levante e Santa Margherita Ligure. Dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni, in cui possono trascorrere la mattinata insieme, facendo delle esperienze di gioco, attraverso il gioco, in cui possono sperimentare il Provence Solving Cooperativo e le STEM, STEM intese come Scienze, Arte, Ingegneria, Matematica e anche percorsi di Philosophy for Chipre, quindi filosofia per i bambini. Un'esperienza analoga sarà avviata dal 17 agosto all'11 settembre a Carasco, dal 24 agosto all'11 settembre a Chiavari e dal 31 agosto all'11 settembre ancora a Sessere Levante. Per i ragazzi delle scuole medie, dal 17 al 21 agosto si svolgerà alla Casa Caritas di Via Marana a Chiavari la scuola di robotica. I ragazzi delle medie possono affrontare la robotica educativa attraverso il gioco. Per le iscrizioni si può consultare il sito www.consorziotst.it oppure chiamare il numero 335-5252-434. Io credo che sia importante ripartire, ripensare il tempo, riformulare le priorità e quindi immaginare un nuovo futuro.